Nessuna riconversione né riorganizzazione per il momento è prevista per il nosocomio agropolese. L'ospedale resta un covid center per garantire l'emergenza ai pazienti positivi al coronavirus, mentre negli altri ospedali della provincia salernitana i reparti covid sono stati chiusi in questi ultimi giorni. Stop ai ricoveri per i cittadini positivi al covid-19 nelle strutture ospedaliere di Vallo della Lucania, Polla, Sapri, Eboli, Sarno e Oliveto Citra, mentre per l'ospedale di Scafati e Agropoli resterà la gestione dell'emergenza. Proprio ieri il reparto covid presso l'ospedale di Polla ha chiuso trasferendo l'ultimo paziente alla struttura agropolese. La situazione attuale nel centro speciale agropolese è la seguente. Sei sono i pazienti ricoverati. Oltre ad Agropoli a gestire l'emergenza in provincia di Salerno sarà l'ospedale di Scafati con sei posti letto di terapia intensiva, 10 di terapia subintensiva, 9 malattie infettive e due postazioni ambulatoriali per infusione anticorpi monoclonali. Mentre Agropoli continuerà ad avere 25 posti letto covid, 6 di terapia intensiva, 10 di terapia subintensiva, 9 di malattie infettive, a cui si aggiungono due postazioni ambulatoriali per l'infusione degli anticorpi monoclonali. Dunque per la struttura agropolese i posti letto saranno concentrati su un solo piano. Il secondo piano invece ospiterà in futuro il reparto di medicina generale con 20 posti letto. Nessuna riconversione dunque per il momento né un ritorno ad un ospedale vero come qualche mese fa, dichiarò il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ai nostri microfoni.